Andiamo a vedere alcuni dei miei strumenti oggi. Allora, qua abbiamo un contrabbasso, non è particolarmente prezioso, ma ce l'ho ormai da tanti anni, comunque va benissimo, è stato fatto in Cecoslovacchia. Qua abbiamo un Esburi bus, un minibus fretless che sembra praticamente un contrabbasso. Qua abbiamo il mio diploma di conservatorio, laurea in jazz. Poi c'è un violoncello, non sono un grande suonatore di violoncello, ma mi piace tantissimo come strumento, quindi me ne so comprato uno, a me era una po' un anno fa. E qua c'è il mio Music Man Stingray del 1989. Ci ho fatto praticamente 500 concerti con gli Emilina Schatt, il mio gruppo, infatti ne porta le prove. Però non lo so se...